Gregor De Frel, la 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 la, Gregor De Frel, na 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 na, Gregor De Frel, na 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 No ragazzi, ho fatto un intro e quanto imbarazzante, non so per quale motivo ho voluto cominciare questo video così No, in realtà è andata che io ho iniziato un altro video, però poi ho detto no, mi sono incespicato con le parole e lo rifaccio Allora, l'ho cliccato start e sto partito a fare questa canzoncina, però mi sono pentito di aver fatto questa canzoncina Mi sono passato i 30 secondi, non mi va di fare un altro video E ciao a tutti, grazie e benvenuti in questo nuovo video, qui è Pablo Giallo Rosso è fatta De Frel è un nuovo giocatore del Sassuolo, ritorna dunque alla base, ovvero della squadra da cui noi lo avevamo acquistato due anni fa Col grandissimo Castile di Siviglia, Monci Allora, sono contento perché siamo riusciti a sistemare un giocatore e garantire un possibile riscatto da parte della squadra nero-verde Per una cifra che ci sta, perché noi abbiamo pagato, mi pare, 20 più 5 di bonus Quindi l'abbiamo pagato tanto De Frel all'epoca E non era facile riuscire a rivenderlo con una somma anche, diciamo, che ci potesse stare Perché alla fine sì, facciamo minusvalenza, però manco tanto, nel senso che poteva andare molto molto peggio Lo vendiamo per una cifra complessiva tra obbligo, diritto di riscatto, qualche sia Che non si sa ancora se appunto sarà riscattato o meno, però se c'è l'obbligo, ben venga, se c'è il diritto Speriamo possa essere riscattato Intorno ai 15-16 milioni di euro complessivamente Adesso dovrebbero essere 2-3 milioni per il prestito Comunque sta di fatto che siamo riusciti a trovare casa, diciamo, a questo ragazzo di nome Gregor De Frel Che a Roma non si è mai trovato, ha fatto un gol su calcio di rigore e io stavo allo stadio contro il Benevento, se non erro O si era contro il Benevento, vabbè, non importa la squadra Diciamo che il mercato che ha fatto Monci li sta parecchio penalizzando Sta penalizzando le strategie di mercato della Roma perché dobbiamo vendere gli esubiti Ovvero che sono i calcelori acquistati proprio da Monci E non è facile vendere calcelori che non hanno giocato a calcio nell'ultimo anno Tant'è che stiamo vendendo tutti in prestito, quindi vendendo anche un parolone Perché non stiamo vendendo nessuno, stiamo dando tutti in prestito Pregando il cielo che a giugno prossimo vengano riscattati Perché se questi non saranno riscattati, ce li troviamo di nuovo su un groppone Dovremmo per forza trovare un'altra squadra Purtroppo è questo Purtroppo il mercato della Roma è penalizzato dal mercato di Monci Dobbiamo prima sistemare gli errori fatti da Monci Vendere tutti gli scarponi che hanno comprato Poi riparare il mercato di Monci Poi fare il mercato estivo Quindi stiamo facendo, diciamo, tre mercati in uno E non è facile la situazione Questo spiega anche molte strategie di mercato Sono contento perché alla fine De Fel Secondo me a Sassuolo può far bene Perché già ha fatto bene Le squadre di medio-bassa classifica Quindi le squadre come il Sassuolo o la Samp Può far bene, anzi no, può, fa bene Quella è la sua dimensione La dimensione di De Fel non è una Roma Non è una squadra che sta tra le prime sei posizioni È una squadra che lotta per metà classifica La dimostrano anche l'anno scorso alla Samp Dove andare in doppia cifra Quindi a Sassuolo sicuramente Secondo me la doppia cifra la raggiungerà Quindi ben per me Che ho preso il fantacalcio a uno Perché secondo me sicuramente Poi oh, se sbaglio l'ho gufata Potete venire per picchiare No, non è vero Poi chiamo la polizia Niente ragazzi Vediamo un po' Ci manca ancora qualche subro da sistemare Ma intanto questo è piazzato Penso che questo video possa finire qui Lascio il like, un commento Iscrivetevi Anche se sembrava un pasto dal Cagliari Poi era Samp E di Francesco invece È tornato alla base Da Proprio Giotto Rosso è tutto Adios Grazie a tutti